ciao fanciulle bentornate sul mio canale oggi vi voglio parlare di un mascara strepitoso per me in più resistente all'acqua intanto per chi non mi conoscesse io sono laura mistretta e sono make up artist da 15 anni e se non l'avete già fatto per favore iscrivetevi al canale perché tanto è gratuito iniziamo vi voglio parlare di questo mascara che per me è stata una scoperta anche se non è un prodotto nuovo ed è il ruolo di tamburi mascara della mac il make up for everything blush perché mi piace questo mascara perché è un resistente all'acqua e come ben sappiamo tutti i mascara waterproof sono un pochino sfigatelli nel senso che non danno le performance di un mascara normale classico invece lui vi sorprenderà è quello che ho adesso anche in questo momento ecco il packaging è un mascara incurvante allungante e volumizzante infatti nel claim c'è proprio scritto che è volumizzante ed incurvante in effetti è proprio così ma non solo a me da proprio un effetto di ciglia finte tenete conto che io le ciglia piccole dritte corte e poche cioè quindi proprio il massimo lui mi dà proprio un effetto di ciglia piene volumizzate e allungate e non fa grumi lo sto utilizzando tantissimo in questo periodo per le spose e per tutte le persone che sono che trucco e che sono invitate a delle cerimonie quindi l'ho testato prima io su di me vi assicuro che tiene contro il caldo contro i pianti lacrime sotto al sole in condizioni veramente estreme ma da soprattutto un bellissimo effetto io spero di esservi stata utile se vi fa piacere seguitemi anche su instagram e noi ci vediamo al prossimo video ciao